Salve, salve, vi saluto da Napoli, guardo chi si è collegati, un attimo aspettiamo come si sente mia voce, per favore, se mi sente bene, allora vorrei cominciare la mia presentazione. Pronto, mi sente? E allora vi presento azienda Skyward Community. Io sono Hatuna Datushwili con le qualifiche dell'investore leader della società Skyward Community, sono mamma di tre bambini e qui due sono studenti e abbastanza affermati, che è veramente una grande gioia per una mamma emigrata. Sono emigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico, ho anche 18 anni di gestione di imprese private e di esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. Per adesso sto a Napoli, sono una specialista certificato di lingua italiana a livello attore. Allora, avendo esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella Community Skyward, sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Spagna, Italia e Israele. Con l'aiuto del mio team, in soli due anni, sono stato investiti oltre 13 mila dollari e gli investimenti a fine di oggi ancora stanno continuando e tutto è successo grazie alla comunicazione online. Allo stesso tempo di suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati, attualmente le speciali richieste e altamente pagate. Puoi immaginare anche in cui il mio team attivamente è coinvolto. questo. Puoi immaginare che prima del 2014 non c'era niente, le persone non stavano investendo in letteralmente in nulla e c'era solo un'idea e in grande desinteressato al lavoro del creatore di questo progetto. E ora ti presentiamo Skyward Community, opportunità commerciali. il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà di signor Anatole Ioneschi con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è in 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di suo sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Lo stesso signor Anatole Ioneschi ha già 73 anni ed è sicuro al 1000% che tutto si realizzerà nel corso della sua vita. Lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. ma penso che tu mi chiederesti ma che cos'è Skyward? Skyward è un trasporto che si muove su rotaie di alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyward di altri modi di trasporto. La struttura della linea Skyward si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non il proprio sistema. I bacini idrici e foreste rimancono entrate. Il trasporto Skyward è controllato da un'autopilota, ciò riduce il numero di potenziali incidenti. L'aerodinamica del trasporto Skyward consente di raggiungere velocità fino di 500 km in ora e anche la costruzione della linea Skyward ti chiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. Tu potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida? Ma io ti dico che quando carichi auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o un'altra materia prima e quindi crea danni alla natura. Noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo salvaguardare il nostro pianeta. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale. Funziona tramite pannelli solari anche sul suo corpo ma può convertire l'energia solare in elettricità lavorando praticamente senza sosta. i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti. Allora i termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive e quindi nessun danno per la la natura non ci sono, non c'è. I termini di incidenti è il tuo sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti. C'è un stabilimento di produzione, un centro innovazione Charja e MISC dove lavorano 3.000 ingegneri, istruttori, esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con massima precisione e qui voglio dirvi che oggi ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia. Come sappiamo quando l'auto per esempio accelera ad alta velocità deve fare i conti con il aria in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica. Il contro sky transport è mila volte più facile da gestire grazie allo scappo affilato e in grado di aggiungere velocità di 500 km per un'ora. Allora, trasporto tipo di questo può raggiungere 500 km per un'ora e la sua capacità a spostare 24 persone e la sua produttività per un notte giorno è 500.000 passeggeri al giorno. Vi presento tutti i tipi, non tutti i tipi di questo trasporto, quindi il suo progetto di sviluppo è ripensibile veramente. Allora, quel tipo di trasporto urbano con la sua capacità può spostare 50.000 passeggeri al giorno e fine di 168 persone. Penso che questa è una bellissima. Questo Unicar può spostare per una volta 8 persone e la sua produttività al giorno è 50.000 passeggeri. Anche un altro, questi per i materiali di costruzione delle case. Se avete le domande potete scrivere. Sappiamo che le strade sono congestionate da auto che non la loro emissione possono causare confinamento e molte malattie. Purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere un alto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti. Negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza. Nel 1878 il signor Renato Juinetsky, scienziato, inventore, progettista di navi volanti, presentò il suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera. Dall'epoca nello studio dimostra che alle 5 anni l'atmosfera era stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste. La circolazione ha causato da decenni problemi tra sovrappolata, mancanza di sicurezza, rispendio di energia colossale. Per i propri interessi, i propri obiettivi, l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi. Stiamo abbattendo foreste, prosciugando fumi e baci energici, distruggendo montagne, sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali. Grazie di questo progetto e grazie di una grande persona, la tua UNESCO, ci sono i progetti che veramente possono salvare la nostra pianeta blu. Allora, quindi per costruire, costruzione di Skyway, possiamo consumare 20-25 volte meno, a tratti perché non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio, per stare acqua o rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari solo i soliti supporti con il binario di fune, a passare su Sky Transport e fornire servizi di consegna con trasporto di veloce. Esistono tre tipi di passacorde, troviamoci con trasporto, sono rigidi, semi rigidi e elastici, ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. Guardate, di nuovo, questi immagini, image. e questo è elastico, rigidi, questi sono rigidi, semi rigidi e elastici. Allora, durante la mia presentazione, se avrete le domande, vi posso rispondere, potete scrivere. Per me è molto importante essere nell'azienda Skyway Community, quindi sostengo la tecnologia Skyway, sperando in un futuro migliore. Ogni partner della società Skyway Community è in una posizione presidizia. Qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrate aggiuntive al programma di partnership, di cui parleremo in un incontro specializzato e interessati. Il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che è una forte unione di persone con obiettivi valori comuni. Rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario, che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati, pianificati e firmati. Questo è un progetto ecologico che è realizzato. Allora, la registrazione sulla nostra pagina si apre tutto, tutti i documenti, tutti i certificazioni, i permessi, che potete trovare anche sul sito www.uneski.ing.org, dove è possibile trovare tutta la strada, dal tempo di sua creazione a creare. Allora, fine di oggi. Allora, vi consiglio registrarsi e essere un partner di società Skyward Community, quindi il nostro profitto è «Pirate i dividenti, guadagni già progetto di partnership, ereditarietà, disposizione sulla restituzione del denaro, diventi comproprietario di tecnologie, partecipa in un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu, passi alla storia, come finaltro puoi trovare una vita spensierata, hai la possibilità di viaggiare, attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retebuiti». «Il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni». «E ti dico che personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari, che non avrei potuto fare nella vita reale, cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra? che non esiste? O in quanti anni potrei risparmiare così tanto? E per me che l'azienda Skype Community è diventata il supporto della mia vita». «E la cosa che è più importante per te è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare, tocare, sentire la sua velocità e comodità per te stesso. non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda. Questo è un unico progetto ecologico globale che ci offre delle opportunità interessanti». «Eco Tecnopark è stato registrato e realizzato ed è operativo in Belarusia, è registrato in Inglaterra, in Isole Vergini, e però era realizzato il primo progetto in Belarusia, nella città di Marina Vorca e negli Emirati Arabi Uniti, in particolare nella città di Sharjah, nel centro di innovazione attorno all'Università Americana. Per me personalmente e per molti partner è diventato ancora più credibile che in Italia stai in 200 paesi partner». «All'Università Americana, negli Emirati Arabi, c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 chilometri intorno all'Università. Questa distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e andare con l'auto Sky del futuro». «E ora anche vi dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici». «Il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare comproprietari e di tecnologie innovative». «La società Skyward Community è stata registrata in Inghilterra in Italia come società europea nel 2014. Pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea. Inoltre, l'ordine di partecipazione è invitato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato. Allora, i nostri azioni partono da 250 dollari fine di 150.000 dollari e abbiamo anche sulla nostra pagina dopo registrazione e finire, completare una verificazione e anche abbiamo offerte specializzate che funzionano sempre. «Pertanto i diritti del single co-partner, come ho detto, sono scritti e tutelati dalla normativa europea. Inoltre, l'ordine di partecipazione inviare al pubblico inglese all'indirizzo indicato. Ecco qui quel documento. Dopo la registrazione della società, le sue fasi sono suddivise in 15 fasi. Ad oggi abbiamo completato la quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla fase. Già quest'anno la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato Tecnologia delle stringhe UNESCO, che si dice così UNESCO String Technology. E' possibile usufruire di rate interne a tasso zero sul pacchetto azionario. Vi consiglio a non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per dare risposte più specifiche nella direzione che ti interessa. I pacchetti azionari partono da 250 dollari a fine di 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti. Un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire. E' possibile usufruire di rate interne a tasso zero sul pacchetto azionario. Non perdere il tempo per ottenere maggiore informazioni e fornisci subito al tuo invitato. Il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa. Tutto consigliamento che avete sentito ho fatto con la speranza di avere un futuro migliore. Di nuovo vi posso dire solo una cosa che veramente dopo questa azienda la mia vita è cambiata appunto maggiore e ho preso la forza di svilupparsi sempre e di migliorarmi. Quindi veramente avere un futuro che mi ha dato la società Skyward Community. Vi auguro sentire voi a se stessi. Con la sua velocità, con la sua comodità e anche con la possibilità di fare i servizi è irreversibile. Anche lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità e entrare sotto forma di dividenti che aspetta quando finisce la fase quindicesimo. Sicuramente questi progetti ecologici già dicono che è bisogno guardare e curare la nostra pianeta che solo Anatoly Uniecki non riuscirebbe a farlo e insieme con rappresentati oltre 200 paesi con le persone veramente tutto è possibile salvare la nostra salute, la vita e anche la vita della nostra pianeta blu. Con grande soia ho sentito a Skyward Community con i nostri diritti e profitti che ogni partner della società Skyward Community può guadagnare. Prima cosa che può prendere i diritti, possiamo guadagnare dal programma di partner che già sono interessati e solo che aiuti per fare registrazione e verificazione è per questo, per cui l'azienda ti vaga. Allora fai disposizione sulla restituzione del denaro di venti con proprietario di tecnologie che entri nella storia, qual sia la storia, come finaltro poi crei capitale per una vita spensierata e hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai. Abbiamo anche attestato di formazione in specialità impegnative e altamente contribuite che è sempre utile per te per essere nella nostra azienda e cosa che è più importante per te è che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni. è tutto questo progetto con la sua bellezza e comodità piano piano costruiscono tutti i paesi europei e dappertutto nella nostra terra, sulla nostra pianeta blu sarà dappertutto disponibile quindi in IAP Emirati Unity già è costruito e ancora stanno realizzando questi progetti quindi volevo dire anche una cosa se avete le domande potete dire e con una grande gioia vi spiegherò perché sono registrata in questa azienda quindi dal tempo quando io ho conosciuto questa azienda io ho pensato prima tanto però che capivo più cose per me stava diventando più credibile quando ho visto anche le persone che erano da Italia, dalla Georgia per me è diventata un progetto più reale e anche che c'è un progetto reale che è possibile toccare e sentire la sua velocità veramente io raggiungo anche per la Russia anche Rubari a prendere i miei documentazioni che sto facendo per adesso e anche di là vi posso presentare dopo la nostra azienda questa era la società di String Technology con le sue offerte e opportunità e sono stato attratto dalla qualifica dell'investore leader di questa società grazie per l'attenzione grazie